Buongiorno e ben ritrovati alla serie speciale su attività fisica come potente medicina per la prevenzione primaria e secondaria di diverse patologie. Questo è il video numero 7 e il messaggio da portare a casa oggi riguarda il numero 6. Praticamente è questo, che l'attività fisica regolare ha un potente effetto cardioprotettivo e in riassunto, se non avete tempo da perdere, questo è quello che più o meno sappiamo dagli studi randomizzati. Ci sono dati studi di associazione, ma questi si basano su studi clinici randomizzati, che l'attività fisica di tipo aerobico soprattutto, ma anche in parte di quella di resistenza, ne parleremo più avanti, soprattutto, e vi farò vedere chi ha voglia di seguirmi poi nella seconda parte del video, quando si associa alla perdere di peso, a un peso sano, un basso livello di grasso visceral addominale, si associa sicuramente a un miglioramento dell'insulinosensibilità, a una riduzione quindi dell'insulina e della glicemia, dei trigliceridi, un aumento del colesterolo buono, quello HDL, e una riduzione della pressione, che è più acuta che cronica, poi ne parlerò di questo, e una riduzione dell'infiammazione, che non è sempre presente, perché probabilmente altri fattori vanno a influenzare il rapporto tra attività fisica e infiammazione. Qua ci sono un insieme di studi in cui si parla di alcune di queste modificazioni cardiometaboliche. Ok, questo è il riassunto. Adesso invece, per chi ha voglia di approfondire, farò vedere alcuni, discuterò alcuni studi randomizzati. Ora, il primo è questo di Ross, pubblicato in Annals of International Medicine nel 2000, in soggetti uomini obesi, quindi con un BMI superiore a 30, in cui ha fatto, in questo studio, ha randomizzato diverse persone, diverse obesi, a una perda di peso con la dieta, quindi con la restazione calorica, vedete, o una perda di peso con l'attività fisica. Il risultato, in soldoni, perché lo studio è molto complesso, ma ve lo riassumo, è che abbiamo ottenuto una simile perda di peso, vedete, meno 7,4 kg, meno 7,6 kg, una riduzione simile della circonferenza vita, del grasso totale, che è leggermente più alto in quelli che hanno perso con l'attività fisica. Vedete che il grasso viscerale, invece, è simile, meno 0,8, meno 1 kg. Questo è tre mesi, lo studio è tre mesi. Dopo tre mesi c'è stata una significativa, però simile riduzione della glicemia a digiuno, dell'insulimia a digiuno, che però è più alta, vedete, è quasi tre volte più alta con l'attività fisica. Come vi avevo già spiegato nel video precedente, l'attività fisica di tipo aerobico è molto potente nel ridurre il livello di insulina, vedete, ripeto, 28,9 piccomolilitro rispetto a 10,5 in media, a parità di parte di peso e di grasso viscerale. L'aria sotto la curva per la glicemia è simile, 2,9-3,4, quindi non c'è differenza, mentre di nuovo, vedete, l'aria sotto la curva per l'insulina dopo il carico di glucosio è molto più alta negli obesi che hanno perso peso con l'attività fisica. Ecco, nello studio naturalmente, non vi ho fatto vedere tutto lo studio, c'erano quattro gruppi, un gruppo di dieta, weight loss con l'attività fisica e attività fisica senza weight loss. E cosa vediamo? Vediamo che in termini di riduzione del grasso sottocutaneo e viscerale, viscerale è quello con le colonne, con le barrette, vede praticamente che sia la dieta che l'attività fisica quando si associa a una parte di peso causa una riduzione del grasso sottocutaneo e del grasso viscerale, significativo per il grasso sottocutaneo e per il grasso viscerale. In realtà attività fisica senza perdita di peso ha un minimo effetto nel ridurre il grasso, minimo e non significativo effetto nel ridurre il grasso viscerale e sottocutaneo. Sempre nello stesso studio vedete praticamente c'è il gruppo che ha perso peso con attività fisica mentre il gruppo che ha fatto attività fisica senza perdere peso. Se guardate l'aumento della VO2 max maximum oxygen uptake è significativo in tutti e due, da 3,8 litri al minuto a 4,3 litri al minuto, 3,7 litri al minuto, 4,4 litri al minuto. Quindi sicuramente queste persone hanno fatto attività fisica perché hanno avuto un aumento della VO2 max. Tuttavia, anche se vedete la stessa età, 45 anni in media, 44,7, non c'è in questi, a differenza di quelli che hanno perso peso, una riduzione del grasso viscerale importante, c'è ma minima e soprattutto non c'è, vedete, la glicemia a digiuno è la stessa, 5,4, 5,3, la insulinemia a digiuno 65, 55, non è significativo, non c'è un aggiornamento dell'OGTT, dell'area sotto la curva per il glucosio o dell'insulina e non c'è una riduzione della pressione sistolica e diastolica, il che rinforza il concetto che comunque se si è obesi, l'attività fisica per avere benefici cardiometabolici si deve necessariamente associare a una perdita di peso e di massa grassa, soprattutto addominale. Ora, questo è un altro studio che abbiamo fatto noi alla Washington University con John Holodzy, ve l'ho già accennato in un video precedente, ripeto, per chi non ha visto i due video di cui ho parlato di questo studio. abbiamo preso praticamente delle persone in sovrappeso BMI 25-30, età 50-60 anni e per un anno sono stati assegnati a tre gruppi. Un gruppo di controllo che faceva praticamente soltanto yoga, un gruppo che doveva mangiare un 20% in meno di calorie, un gruppo invece che doveva aumentare la spesa energetica con l'attività fisica, vi ho già detto, l'abbiamo ottenuto facendo fare un'ora di attività fisica al giorno, 6 giorni di settimana al 70% della frequenza cardiaca massima. Vedete praticamente che tutte e due hanno perso peso, exercise e CR all'incirca un 8%, ve l'ho già detto, con una riduzione del 30% circa in tutti e due della massa grassa totale misurata con la texa e una riduzione del quasi 40% o 39% del grasso viscerale con la risonanza in quelli che hanno fatto l'attività fisica, e all'incirca lo stesso in quelli che hanno fatto restrizione calorica. Ho fatto un errore nel video precedente in cui ho detto che l'attività fisica può ridurre il grasso viscerale del 75%. In realtà quello è soltanto delle persone che sono stati superacifers, quelli che hanno fatto veramente bene, quindi è il massimo della capacità di un anno. In realtà in media, nel gruppo in media, la perdita di grasso viscerale è del 39%, che è importante naturalmente. Naturalmente questo si è tradotto in una riduzione della leptina, questa è una dipochina e un aumento della diponectina che è prodotta dal tessuto adiposo ed è un potente ormone insulno sensibilizzante. Ora guardiamo dal punto di vista cardiometabolico, dei fattori di rischio cardiometabolici. Cosa vediamo? Che sia che l'attività fisica, perdere peso con l'attività fisica e con la restrizione calorica, comporta una riduzione del colesterolo totale di 10 unità in chi fa attività fisica e 22 in quelli che hanno fatto la restrizione calorica. Per quel che riguarda l'LDL colesterolo, in realtà quello cattivo è simile, 17 e 19 milligrammi decilitro di riduzione del colesterolo LDL. L'HDL è aumentato di più in quelli che fanno attività fisica, lo vediamo, 5,7 milligrammi decilitro di aumento. Naturalmente il rapporto con l'estrizione calorica dell'HDL è un cambiamento molto molto importante. Comunque anche in coloro che hanno fatto attività fisica c'è un aumento che però non è significativo. C'è un miglioramento dell'insicuro sensibilità a digiuno con l'OMA e per quel che riguarda invece la proteina cereattiva, che sapete è un marcatore di infiammazione, l'attività fisica e la restrizione calorica è più potente in maniera significativa da 2,3 a 1,6, invece nell'attività fisica da 2,8 a 2,3. Quindi anche l'attività fisica ha un effetto di ridurre l'infiammazione, ma perlomeno in questo studio non è così potente come la restrizione calorica. Questo è un altro studio che hanno fatto dei miei colleghi sempre alla Washington University, Dennis Villareal con Edward Weiss. In questo caso hanno preso dei pazienti, vedete che hanno sempre tra i 50 e i 60 anni e li hanno randomizzati a tre gruppi. Restrizione calorica, attività fisica e una combinazione di attività fisica e restrizione calorica con l'idea di ottenere tra il 6 e l'8 per cento di perdita di peso. Vedete praticamente, queste sono le caratteristiche al baseline dei pazienti, ripeto, età media 57 anni e BMI media 27, 28. E i risultati sono che quelli che hanno fatto la sezione calorica hanno avuto una riduzione di circa 5,4 chili del peso, 5,6 in chi è fatto attività fisica e 6,1 in coloro che hanno fatto un misto di risultato. Restrizione calorica, attività fisica, la riduzione della circonferenza vita è più alta in chi è fatto attività fisica, mentre la riduzione di massa grassa è più o meno la stessa, vedete, 4,1, 4,9 chili, 5 chili di riduzione. Per quel che invece riguarda la massa magra, l'attività fisica ha un effetto risparmiante, cioè praticamente di questi 5,6 chili, la maggior parte di questi sono grasso, con pochissimo muscolo, mentre in chi ha fatto la riduzione calorica, vedete, 5,4 chili, 1,1 chili, è legato alla massa muscolare. Per quel che riguarda il grasso invece addominale è simile, vedete, 2,4, 2,9, 3 chili di riduzione di grasso addominale con la dexa. Ora, guardiamo ai fattori cardiometabolici. Per quel che riguarda la pressione, la restrizione calorica è potente. Questo lo sapevamo da altri studi, vedete che c'è una riduzione della pressione sistolica da 121 milligrammi millilitro a 111, quindi 8 unità di riduzione di pressione sistolica con una P di 0,02, mentre in chi ha fatto attività fisica praticamente non c'è nessuna riduzione e la combinazione di attività fisica e restrizione ha una significativa riduzione della pressione sistolica. Per quel che riguarda la diastolica invece il risultato è simile, all'incirca meno 3, meno 5 milligrammi millilitro di mercurio, però per la sistolica la restrizione calorica è più potente, questo lo sapevamo. Per il colesterolo invece, vedete, totale è simile, meno 15, meno 14, sembra che ci sia un effetto additivo nella restrizione calorica più attività fisica. Per quel che riguarda l'HDL e colesterolo è di nuovo simile, meno 10, meno 12, meno 14. Per l'HDL, in questo studio stranamente, l'attività fisica aumenta, l'HDL, ma non in maniera significativa, da 54 a 56, invece nella restrizione calorica qua c'è una riduzione dell'HDL e colesterolo, in questo caso anche. Per i trigliceridi c'è un effetto importante dell'attività fisica, lo sapevamo, che diventa potenziato dalla combinazione di restrizione calorica e attività fisica. Vedete, meno 7, meno 13, meno 32 milligrammi decilitro di riduzione. Per la glicemia, di nuovo, meno 3, meno 2, meno 4. Per l'insulina, meno 2, 3, meno 1, 4, meno 2,4. Questa digiuno. L'OMA, vedete, è simile. Ok, questi sono i risultati di questi studi randomizzati, che ci fanno vedere, tutto sommato, che l'attività fisica, la restrizione calorica, quando si associa a perdere di peso simile, hanno degli effetti, in parte che sono sovrapponibili, in parte che sono differenti, dipendono da tanti fattori, dalla composizione della dieta, dal peso corporeo precedente, probabilmente da altri fattori epigenetici. Questo invece è uno studio cross-sectional di persone che ho studiato negli Sti Uniti, in cui hanno fatto per 15 anni restrizione calorica, o persone che sono pareggiati per l'età e per sesso, che sono magri perché corrono dalle 50 all'80 km a settimana, e un gruppo di controllo pareggiato per l'età e per sesso, invece sedentario, che consumano anche per l'età americana. Quindi questi due consumano una tipica dieta americana, ma questi fanno attività fisica e questi invece sono sedentari, e questi invece fanno restrizione calorica e fanno pochissima attività fisica. Si muovono sicuramente, ma non fanno attività fisica importante. E tutti e tre sono pareggiati per l'età e per sesso. Allora, questi sono molto magri, hanno un BMI medio di 19,6, questo, se mi ricordo bene, è di 22 circa, e questo, nello studio, è 27. Come vedete, sia quelli che fanno restrizione calorica e attività fisica di lunga durata, hanno un colesterolo totale molto basso, 162-166 rispetto a 202, che è più o meno in linea con la media per l'età, si va a spostare un po' di 55 anni. L'edile di colesterolo è anche molto basso, 88-92 rispetto a 122. L'HDL è alto in tutti e due, 63-61 rispetto a 50, e quindi il rapporto colesterolo totale HDL di 2,4-2,5, quindi è fantastico. Sia a coloro che fanno attività fisica, restrizione calorica, hanno i tridiceri molto bassi, 58-65-159. Come ho già detto, i tridiceri, le VL, sembrano sia, insieme alle VL, un importante fattore di rischio per atherosclerosi, ma in linea con i dati degli studi randomizzati che vi ho appena mostrato, la dieta, la restrizione calorica, è molto più potente nel regolare la pressione sistolica, soprattutto vediamo praticamente che la pressione sistolica di queste persone che fanno restrizione calorica senza malnutrizione è di 103. Anche nelle persone anziane la pressione sistolica è molto bassa, in coloro che fanno attività fisica è 125, nel controllo 131, la diastolica 62, 72, 84. Tutti e due hanno una bassissima glicemia, più bassa in questo gruppo, a digiuno soltanto, però l'ho già spiegato del video precedente, è di 82 rispetto a 90, 95, mentre la insulina a digiuno è uguale, 1,4, 2, 6,9, e quindi già questi sono anche iperinsulinemici, anche se non patologicamente, ma sono iperinsulinemici. Di nuovo si conferma che la restrizione calorica è più potente dell'attività fisica nel ridurre la proteina cereattiva, vedete che l'infiammazione 0,2 mg litro significa che è inesistente rispetto a chi fa attività fisica e al gruppo di controllo sedentario. Abbiamo misurato in queste persone anche due citochine, il TNF-alfa, che è significativamente più basso in chi fa restrizione calorica rispetto a chi fa attività fisica e controllo di sedentari, e Sirum ICAM-1, che è una molecola di adesione, di nuovo è più bassa in chi fa restrizione calorica rispetto ai due gruppi di controllo. Ultimo studio di cui voglio parlare oggi, perché naturalmente tutti questi qua di cui vi ho parlato sono studi che vanno a vedere i fattori di rischio cardiometabolici. Poi ho altri dati sulla Intim Media Thick, le carotidi, la stiffness, ma in questo video non voglio parlarvene per non confondere. Però c'è uno studio molto bello pubblicato su Circulation nel 2004 in cui hanno fatto una comparazione per un anno, mi sembra, sì, 12 mesi. Fate vedere praticamente, hanno randomizzato delle persone che avevano una coronopratia stabile all'impianto di una... hanno fatto un'angioplastica coronarica o li hanno randomizzati un gruppo a fare attività fisica. Attività fisica. E cosa vediamo? Vediamo praticamente che la sopravvivenza libera dai venti dopo 12 mesi è significativamente superiore nel gruppo che ha fatto attività fisica, vedete, rispetto al gruppo che ha fatto una angioplastica percutanea coronarica con il posizionamento di uno stand. Vedete? Vedete che in quelli che hanno messo uno stand, quelli che sono liberi da event free survival passano da baseline 50, 41, 35, mentre quelli che sono state randomizzati a attività fisica 51, 48, 45. Di nuovo, nel dimostrare come questi interventi di stile di vita, soprattutto quando vengono combinati in maniera personalizzata, hanno un potentissimo effetto. Qui parliamo appunto della sopravvivenza libera dai venti a 12 mesi tra un gruppo randomizzata a posizionamento di uno stand per angiografia percutanea o attività fisica, pubblicato su Circulation, che è una delle due migliori riviste cardiologiche al mondo. Poi ci sono molti più dati, non ho tempo di entrare nel dettaglio, chi ha voglia di andare a capire diciamo le mille particolari, può, se è un tecnico, se è un medico, un ricercatore, può leggere questa review che ho scritto per Nature Reviews Cardiology intitolata Intervention to Promote Cardiometabolic Health and Slow Cardiovascular Aging, oppure per i non tecnici, per i non esperti, per le persone appunto che non hanno una conoscenza scientifica, c'è questo libro che ho scritto di recente che si chiama The Path to Longevity in cui racconto in maniera più semplice alcuni di questi concetti. Come sempre vi ricordo che ho iniziato questo canale YouTube in cui tratto diverse tematiche dalla nutrizione, attività fisica, poi faccio dei piccoli video su degli studi scientifici che ritengo particolarmente importanti e utili e li potete trovare appunto nelle diverse cartelle che ho creato. Questa è la cartella sull'attività fisica, ce n'è una in italiano per tutte queste tematiche, c'è una cartella in italiano e una cartella in inglese e quindi ci sono una serie di video che per chi è interessato a capire cosa la scienza ci ha insegnato e ci sta insegnando perché, ripeto, il mio lavoro come scienziato, come medico scienziato è quello di fare ricerca scientifica in prima persona ma anche di andare a vedere quello che i miei colleghi pubblicano per tenere le giornate e quindi per capire come aggiustare i miei studi con nuovi dati, nuove tecniche per capire meglio i dettagli di come gli stili di vita possono essere combinati per migliorare la salute, per prevenire e addirittura curare alcune delle alterazioni metaboliche e ormonali che sottendono alcune delle più frequenti patologie croniche e degenerative dei nostri giorni. E con questo vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Grazie.